Sì, è successo un casino. Oh! Sì, queste sono le due puttane che ho chiamato prima. Alla fine mi ha fatto ubriacare, ma non mi ricordo neanche più tanto bene cosa è successo. Mike, dal video! No, 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 no! Marco, Marco! Ma che cazzo morte? L'ho detto che sta pure in Cirena! Bella festa del merda! Grazie a tutti!